RSC, RSC, Radio Studio Centrale Amici belli, io non posso spiegarvi la mia felicità di oggi perché questa donna qui, che è donna, io l'ho già intervistata tante volte ma sempre al telefono e poterla incontrare oggi, poterci guardare negli occhi, cara Lucia Sardo, per me è una grande felicità, quindi ti dico grazie Ma grazie a te, insomma, sono contenta che solo la mia vista può rendere felice Sì, sono felice perché siccome le persone che stimo mi piace averle vicine, poterci dialogare come abbiamo fatto fra l'altro fuori onda che ci siamo già scambiate qualche battute, ci siamo trovate in linea su diverse cose e oggi tu sei qui perché fra pochissimi giorni porterai uno spettacolo veramente importante e lo porterai fra l'altro a Milano, al Teatro Libero di Milano dal 16 al 18 novembre Io ho voluto cogliere la palla al balzo, visto che al momento sei qui dalle nostre parti, per poterne parlare insieme perché questo è uno spettacolo veramente importante Io vorrei che lo raccontassimo insieme perché poi è un tuo spettacolo cioè tu sei la protagonista ma sei anche l'autrice Beh sì, i miei spettacoli solitamente me li scrivo da sola anche perché la drammaturgia ha sempre come dire trattato poco se non male le donne ci sono pochissimi testi per donne e su donne, pochi 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 quindi di solito o te lo scrivi da te oppure ci sono i soliti Devi essere fortunato anche se qualcuno invece ti propone questo tipo di ruoli e femminili in generale, io ho sempre, lo sai, te lo ne abbiamo parlato prima in Fuorionda, lo sai che io ho questa scuola di recitazione e alla fine dell'anno quando devo fare il saggio sono costretta a scrivere perché solitamente sono più donne e invece la drammaturgia mondiale solitamente scrive per i maschi Però in questo caso credo che tu abbia scritto qualcosa che alla fine un po' ti appartiene perché ha fatto parte della tua carriera di attrice in termini veramente molto molto alti perché stiamo parlando di una figura e di una psicologia femminile molto delicata e particolare che è quella di Felicia Infastato Allora questo è stato un atto dovuto era una specie di promessa e lo racconto nello spettacolo perché lo spettacolo descrive Felicia ma descrive anche il nostro incontro descrive anche quello che io ho preso da lei e quello che sono riuscita a darle è una promessa che le ho fatto perché lei, lo racconto proprio nello spettacolo prima che io uscissi dalla sua casa quando sono andata a trovarla, a conoscerla lei mi disse mi devi fare una promessa mi devi promettere che farai conoscere mio figlio a quante più persone possibile naturalmente ancora il film non era uscito iniziavamo, avevamo iniziato le riprese da poco quindi nessuno immaginava chiaramente stiamo parlando dei cento passi i cento passi di Marco Tullio Giordano un film che avrò visto forse 5-6 volte nella mia vita e quindi lei mi disse aiutami a far conoscere mio figlio io ho promisi ma insomma non ero così convinta nel senso che non potevo mai immaginare il successo che avrebbe avuto il film di i cento passi quindi la storia di Peppino ma poi io tornai molte volte nella casa di Felicia tornai tantissime volte siamo diventate amiche e ho scoperto tu il primo incontro te lo ricordi? proprio il primissimo? sì, assolutamente qual è la cosa che ti viene in mente istintivamente? la prima cosa che ti ha colpita di questa donna? la sua normalità talmente normale che era straordinaria io ho rivisto mia madre ho rivisto mia zia ho rivisto mia nonna ho rivisto la forza delle donne comuni che hanno una forza straordinaria molte donne attivano questa forza solo quando c'è una tragedia un evento straordinario un evento straordinario e lei no lei l'aveva attivato da subito perché lei ha 18 anni stiamo parlando negli anni 30 quando ancora in Italia le donne non hanno il diritto di voto lei negli anni 30 decide di il giorno delle nozze la notte prima delle nozze si rende conto che non è innamorata di questo ragazzo sveglia la famiglia e dice io non mi voglio sposare e non si sposa un atto folle per quei tempi folle a Cinisi paese mafiosissimo assolutamente e negli anni 30 quindi immaginati che cos'era questa donna nella sua normalità perché lei lo diceva in modo semplice lei mi diceva eh non lo amavo me ne sono accorta come facevo che incredibile incredibile per quei tempi ma con grande normalità con grande normalità ma le persone straordinarie in realtà hanno sempre questo tratto distintivo di essere normali cioè di non essere consapevoli del loro essere straordinari cioè fuori dall'ordinario ed è la loro forza perché lì risiede la loro umiltà la loro tenacia la loro determinazione brava di questa donna continuiamo a parlare fra pochissimo con Lucia Sardo restate lì rsc rsc radio studio centrale amici belli oggi pomeriggio come vi dicevo sono proprio felice di avere qui con me Lucia Sardo con la quale veramente vorrei parlare non soltanto della madre dei ragazzi spettacolo che fra l'altro grazie a palco off a questa bella realtà gemella due città due mondi teatrali due realtà molto diverse ed è bello il fatto che una produzione siciliana catanese anzi direi arriva a Milano racconta una storia che in realtà tutti conosciamo almeno per sentito dire ma la racconta entrando in profondità perché questo lavoro drammaturgico che hai scritto tu scandaglia Felicia impastato ma attraverso lei osserve il mondo dal suo punto di vista sì dalla parte con gli occhi di una madre con gli occhi di una donna racconto la storia di Peppino attraverso le parole di Felicia mi ricordo anche tutte le cose che lei mi raccontò perché appunto nel nostro primo incontro io mi ero preparata centinaia di domande volevo sapere e non gliene hai fatta manco una scommetto nemmeno una un classico nemmeno una ti sei fatta travolgere dall'emozione probabilmente no 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 lei era travolgente lei mi ha travolto allora mi ha detto una cosa mi ha raccontato che lei tutte le mattine si svegliava alle 5 ma si alzava alle 7 perché dalle 5 alle 7 si ripassava tutto quello che le era accaduto incredibile siccome cominciava a farsi vecchia aveva paura di dimenticare lei ogni mattina faceva questo esercizio di memoria e quindi appena io arrivai mi raccontò subito tutta la storia chiaramente io ho pianto tutto il tempo lei tranquilla come un cristallo lei era pulita come un cristallo e niente appunto quando me ne sono andata mi ha fatto fare questa promessa ma io ho promesso ho fatto una promessa più intima più vera te stessa ho detto farò conoscere te a più gente possibile sono stata io a portare al produttore il soggetto di Felice Impastato lo sai che si è fatto una fiction poi purtroppo non mi hanno scelto ma infatti io non vorrei essere polemica ma non dobbiamo essere polemici io ci sono rimasta un po' male devo essere sincera tutti ci siamo rimasti male tutti proprio male non posso fare la protagonista il rei perché non sono un nome il rei non sono un nome il rei perché non lavoro il rei beh se non lavoro cioè come si fa capito il cane che si morde la coda è un po' paradossale beh una volta adesso spero che le cose stiano cambiando una volta si diventava un nome il rei attraverso la raccomandazione molto chiaro io lo dico tranquillamente sì sì ma era un meccanismo molto chiaro ho vissuto fino adesso fino alla mia età veneranda senza aver bisogno di nessuno e quindi credo no ma fra l'altro io mi piace perché Lucia Sardo le cose non le manda a dire no 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 io le dico dice cose che realmente pensa che sanno tutti esatto ti sei sempre esposta nella tua vita nella tua carriera ma sai sono normale non è che mi sono esposta la differenza fra me e una persona normale è che la persona normale non è un personaggio pubblico ma io sono normalissima debbo dire le cose e me ne assumo le responsabilità e sono cose che pensano tutti e sono cose che trasmetti anche ai tuoi ragazzi assolutamente io ai miei ragazzi dico sempre una cosa allora dico ragazzi ci sono tre modi per diventare importanti famosi non importanti in Italia e per avere successo nel mio campo essere figli di un ministro ok prostituirsi o studiare tanto ecco allora se voi siete figli di un ministro beati voi perché non dovete fare niente beati si fa per dire e allora bisogna studiare tutto quello che io ho ottenuto è stato l'ho ottenuto perché ho studiato che poi se io ricordo bene tu hai iniziato a studiare al nord si 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 in provincia di Bergamo e a Bergamo a quelle parti a Bergamo a Treviglio a Treviglio Treviglio perché c'era uno dei gruppi più importanti della ricerca teatrale italiana io ho fatto un laboratorio con loro mi hanno chiesto di restare con loro quindi insomma diciamo che il dono il talento esisteva ma al talento sai il talento tutti gli esseri umani hanno un talento per qualche cosa però poi ci devo lavorare su ma se non ci lavori il talento va via svanisce è come un muscolo da allenare tutti abbiamo le gambe ma se non corri se non ti alleni mica puoi fare la cosa di New York la maratola di New York però oggi c'è un po' la presunzione che basta avere anche un piccolissimo talento e in breve raggiungere degli obiettivi perché poi c'è questo inseguimento temporale tutto veloce tutto rapido tutto immediato sai io faccio l'esempio del pane se tu prendi della farina ci metti un poco di lievito e la metti a lievitare il pane per 48 ore poi non fa male la pizza tant'è che tutti cerchiamo la pizza lievitata molta se tu prendi la farina ci metti un panettone un panetto di 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 autolevitante di lievitato di lievito magari diventa bellissimo ma poi fa male la pancia certo quindi io credo che ci sia una tendenza opposta se si è capito perché poi sai tutti questi famosi durano quanto pochissimo certo e poi e quando si sgonfia questo successo fra l'altro entrano in crisi subito perché ovviamente si erano abituati a uno stile di vita diverso non solo ma tu scopri una cosa terribile che il successo non è la fama brava è un'altra cosa Lucia io ti voglio intervistare ogni settimana perché ci dai delle chicche di saggezza meravigliose ma tesoro ma è saggezza perché è esperienza cioè il successo è un successo personale il successo è stare bene con la tua pelle con te tu lo sai essere soddisfatta di quello che fai cioè farlo con coerenza ma la fama che vuol dire tu puoi diventare famoso perché sei caduto dal quinto piano che se ne frega anzi secondo me questo concetto però lo dobbiamo approfondire un po' meglio quindi voi restate lì che noi torniamo fra pochissimo in salotto amici belli rieccoci in salotto con Lucia Sardo stavamo parlando fondamentalmente del successo della fama che non sono sinonimi credo che nel mio lavoro ti devo dire che la cosa più fastidiosa è la fama questo se ne accorgono tutti quanti quelli che inseguono la fama la fama significa non avere più privato significa non poterti fare una passeggiatta tranquilla adesso tutti hanno le macchinette con le fotografie ti devi fare la foto con tutti e io ancora lo faccio volentieri perché io non sono non ho questo successo questa fama però ho amici famosissimi che non escono più di casa quindi è una cosa molto pesante molto brutta perché poi tu dici il privato attenzione perché oggi il privato viene scusate il termine sputtanato in pubblico e quando è sputtanato in pubblico non è più privato se la vita privata si chiama vita privata è perché è privata non è un dettaglio e dovrebbe rimanere tale poi ciascuno nella vita fa quello che vuole per carità però questa eccessiva mercificazione anche dei sentimenti delle emozioni questo gettare in pasto tutto a tutti è pericoloso allora il bambino il bambino qual è la più grande sofferenza del bambino è non essere amato è non essere visto in un'epoca in cui se tu non sei visto non esisti ci riattiva il nostro bambino quel bambino che se non era visto dalla mamma era disperato era perduto allora tante persone pensano che quindi tu pensi sia anche una forma di insicurezza assolutamente questa ostentazione continua di immagini di selfie è un'ostentazione che deriva da un vuoto magari da riempire assolutamente ma non lo penso oh ve l'ha detto Lucia Sardo quindi capito io ho diversi allievi di diversi ragazzi che studiano con me poi mi dicono poi chiaramente pensando mi ma se a Catania c'è sta cosa a Roma chissà che ci sarà e poi scoprono che non gliene frega niente di diventare famosi perché frequentando i famosi si rendono conto che non sono né più felici né più gratificati completamente e quindi rimangono scioccati e poi insomma però prendono coscienza prendono coscienza sono contenta adesso un mio allievo che voleva fare il suo sogno era di fare il tronista il grande fratello l'altro quest'estate si è smontato come la panna si è smontato mi ha detto ho capito quanto è bello il teatro perché il premio di fare la cosa che noi amiamo farla è farla qui e ora il teatro è qui e ora non è però poi domani divento famosa però poi domani divento ricco però poi domani il teatro godi è come quando facciamo l'amore quando fai l'amore devi godere mentre lo fai non nel ricordo chi se ne frega del ricordo ragazzi qui sto facendo standing ovation dentro la mia testa una dopo l'altra Lucia Sardo quando noi amiamo fare il nostro lavoro è come fare l'amore con l'uomo nel caso nostro o con la donna ognuno lo fa con chi vuole con chi vuole l'importante che se la gode ed è la stessa cosa fare un lavoro che noi amiamo quindi dobbiamo godere nell'istante in cui lo facciamo se noi non godiamo in quell'istante cambiamo mestiere non serve a niente non è quello non è quello è solo mentale Lucia io intanto veramente ti ringrazio perché oggi avevo preparato mentalmente questa chiacchierata in un determinato modo e mi hai completamente scombustolato i piani ma io sono felice di questa cosa perché quando succede questo succede qualcosa di vero cioè non si seguono schema si seguono le sensazioni e ciò di cui si ha voglia di parlare veramente e soprattutto noi non stiamo parlando solo fra di noi stiamo comunicando queste cose al pubblico che ci sta ascoltando io spero che non ascoltino solo con le orecchie ecco è difficile ascoltare solo con le orecchie quando quando c'è qualcosa di interessante e c'è qualcosa di vero e quando c'è allora io quando faccio questo spettacolo una volta lo faccio molto nelle scuole una volta un preside mi disse abbiamo fatto una scommessa lui mi diceva deve finire entro le 11 perché poi suona la campanella e i ragazzi se ne vanno e io ho detto preside i ragazzi non si alzeranno lui mi fa io faccio il preside da 20 anni li conosco i miei ragazzi ho detto e io faccio l'attrice da 30 si fidi finito lo spettacolo naturalmente non si sono mossi ho detto allora chi l'ha vinta la scommessa lui mi fa vabbè ma lei non è un'attrice lei è una domatrice io non ho mai visto i ragazzi inchiodati alle sedie cosa significa questo significa che i ragazzi se gli dai il cibo buono si vogliono nutrire e gli piace è quando gli dai le schifezze che se ne vanno allora bisogna dare il cibo buono quello lievitato 48 ore io credo che con questo messaggio veramente ci possiamo salutare ma perché non voglio che lo perdiate questo messaggio e ti dico grazie non ti auguro nient'altro che continuare ad essere quella che sei e spero che tu possa tornare qui perché io oggi mi sono posso dirlo a ricriata magari io alla prossima magari io alla prossima